Acipe annun di mano Petri Ennoveris, direzione, principis, apostololo, direzione, tuan e la Iglesia Robolari. A l'onore dei Omnipotenti e Santorum, Apostolom Petri e Paoli, ti vi committimo stituto in Santa Gemma dell'Anni. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Grazie. Acipe annun di mano Petri Ennoveris, direzione, principis, apostololo, direzione, tuan e la Iglesia Robolari. A l'onore dei Omnipotenti e Santorum, Apostolom Petri e Paoli, ti vi committimo stituto in Santa Maria ispanorum di Monte Serrato. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Acipe annun di mano Petri Emano Petri Ennoveris, direzione, principis, apostololo, direzione, tuan e la Iglesia Robolari. A l'onore dei Omnipotenti e Santorum, Apostolom Petri e Paoli, ti vi committimo stituto in Santa Maria ispanorum di Monte Serrato. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amo, amo, amo. A l'onore dei Omnipotenti e Santorum, Apostolom Petri e Paoli, grazie a tutti. A l'onore dei Omnipotenti e Paoli, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.